Grazie a tutti Grazie a tutti Un cenno che ci siamo Perché guarda solo te No Adesso abbiamo visto che il vostro amico Orca miseria Non si riesce ad aprire da qua? Bisognerebbe chiederlo a Semi Siamo come a casa Stavo dicendo prima E qui ci... Niente, ok Non posso passare la telecamera Mi dispiace Non entrano loro nell'inquadratura Claudio? Chi è? Dov'è? La 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 Più è un caldo Sì Ma cazzo Vabbè piano piano si aggiungono Devo dire Anche perché mi sa che non entriamo... Avvicinate a lui Ma no, state pure State qua L'altra volta l'ho fatta Ma era qua Allora è il periodo di semina Allora è il periodo di semina Allora se vuoi fare la serie a me Ok Partiamo? Così quando arriva Ma dov'è che sei? Mettiti qua davanti a lui Perché c'è tra loro due Ok Ok Ci si vede? Sì si vede Ok Eccoci qua Con Claudia Cerdan All'interno del... Ok Allora No dai Per favore Dobbiamo partire seriamente Ok Insomma Questi in coriore Sono belli Siamo fuori onda Uno, due, tre Via Ciak Si gira Italia Uno Compagnia Radio Padania No con una canzone Che hai fatto stasera La prima Mi piace Morfrunzele iubitesci Che se ne sono i miei Che ti stai facendo Ma si canti Tu lo so Diga papà Sì No dai No ce ne una Andiamo via Ma stai registrando? No queste fori una Li devi fare No no E stai tutto registrando No andate a dare Eh sì eh Possiamo farti una no dai davvero non sa cosa chiederci è una canzone che ti viene più in questo momento più facilmente da cantare no no che è cantiamo tutti la 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 tu timidi oh ma re ma ma re ma ma io ci dico na ma 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 l'uscelo che sciva perde la pena io io ho perduto una persona cara ma 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 sia ma 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 grazie alla prossima ma 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 ma